E sì ragazzi, è sì, è sì, è sì, è sì, è SIC PARADE, è SIC PARADE, è SIC PARADE, è SIC PARADE Allora benvenuti, benvenuti nella decima, nella decima, nella top 10 delle notizie di mercato più importanti del giorno Oggi le andremo a ricostruire insieme, andiamo a vedere quello che sta succedendo nel mondo del calcio Andiamo a vedere come dover e poter parlare di calcio o mercato Prima di iniziare vi chiedo qua sotto 500 miaci, in questo momento esatto, appena arrivano 500 miaci Subito immediatamente su questo video vi porto subito un altro contenuto Tra l'altro vi invito anche ad iscrivervi a questo canale perché su questo canale sto iniziando a pubblicare video con continuità come se fosse il primo canale Quindi mi raccomando fatelo perché spesso pubblicherò da qua invece che da là quindi mi raccomando iscrivetevi Detto questo partiamo dalla posizione numero 10 Murigno ha parlato anche della sua possibilità di diventare il CT del Portogallo Dice voglio ringraziare il presidente della federazione portoghese Quello che mi ha detto mi ha fatto piacere e mi ha reso orgoglioso Mi ha detto che ero non la sua prima scelta per la panchina ma la sua unica scelta E che avrebbe fatto di tutto per portarmi a casa e per me è stato un onore Ma non sono andato, sono qui e questo interessa Ne ha parlato ovviamente in conferenza pre partita della Roma E posso dire che mi ha reso veramente orgoglioso sentire queste parole Perché chiaramente tutti vorrebbero diventare commissari tecnici del loro paese Ora per Murigno è un po' più semplice Vi faccio un esempio Se dovesse arrivare l'offerta a Vincenzo Italiano Se dovesse arrivare l'offerta ma anche a Simone Inzaghi Non so quante altre volte passerà in convento un'offerta di questo tipo E quindi, intendo per la nazionale italiana E quindi ovviamente bisogna fare un passo in avanti Ma visto che il Portogallo storicamente non è che abbia mai avuto dei CT O degli allenatori così tanto importanti Beh, Murigno secondo me potrebbe accettarlo anche tra due anni, tra tre anni, tra quattro anni Insomma, a meno che non sia nel pieno il Portogallo di un ciclo vincente Murigno è sempre una carta buona per andare ad allenare il Portogallo Detto questo sono contento perché non era semplice Come ho detto tutti sognano di allenare la propria nazionale E la propria del proprio paese E Murigno ha detto di no perché voleva continuare il suo progetto a Roma Questo mi rende veramente, veramente felice Anche perché qualcuno dirà Vabbè, sì, ma anche i soldi No, raga, il Portogallo offriva più della Roma Quindi nel senso sarebbe tranquillamente andato Sono contento che lui abbia detto di no Posizione numero 9 Per un'idea del Monza che però sembra non si debba fare E cioè il Monza voleva provare a prendere Rick Carsdorp Come rinforzo per la fascia Qual è il problema che a Roma percepisce 2 milioni e 2 E sono tanti per il Monza Anche perché la Roma l'ha detto chiaramente Ha detto io non regalo calciatori Io non faccio favori a nessuno Se tu vuoi prendertelo Te lo prendi a titolo definitivo Quindi dimentica di che ti aiuto a pagare l'ingaggio Che ti pago la metà dello stipendio A me non me ne frega nulla Dice la Roma Io piuttosto me lo tengo se devo pagarti lo stipendio Quindi o te lo prendi e poi ti accordi con lui Sul contratto Se lui vuole venire e si abbassa l'ingaggio Se lui non vuole abbassarsi l'ingaggio Fate voi Oppure per quanto mi riguarda non lo prendi E nel frattempo il Monza Che comunque era molto interessato a Rick Carsdorp Sembra dover accettare un tramontare della trattativa Infatti sembra che per il Monza Dovrebbe comunque arrivare Pollirola dal Marsiglia Bel calciatore A me piace veramente tanto Dico la verità Il mercato che sta facendo il Monza E come si sta muovendo Perché credo che lo stia facendo Nel modo migliore possibile Nel modo più adatto possibile Comprano calciatori che Conoscono il nostro campionato Perché Pollirola ha giocato già al sassuolo Che sono comunque molto forti Che hanno avuto dei problemi oggettivamente A livello di crescita Di progetto di costruzione di carriera Perché sicuramente Pollirola Poteva essere un calciatore straordinario Quando si parlava di sassuolo Si parlava anche di Juve Di Roma eccetera Poi alla fine è finita il Marsiglia Però il Monza prende questi giocatori qua Vedasi anche Pessina Per dirne un altro O giocatori che comunque dovevano esplodere Cragna un altro E poi non hanno fatto il grande salto Per farli riesplodere A Monza Si è parlato anche di Cardi Per dirne un altro Quindi insomma Pollirola per me sarebbe perfettamente adatto Forse sarebbe stato anche meglio Carsdorp Però l'ingaggio di 2 milioni e 2 Pesa veramente veramente tanto Posizione numero 8 Per uno dei più grandi fallimenti Che io ricordi Infatti il Besiktas Addirittura sembra che sia Per rimandare indietro Delle Alli Dall'Everton E sinceramente Mi dispiace tanto Mi dispiace perché Delle Alli Al Tottenham Era un calciatore De quelli veri De quelli forti Di quelli che ti facevano emozionare Io mi ricordo il Tottenham Di Son, Kane, Alli E Eriksen Che addirittura era il Tottenham Di Eriksen, Alli e Kane Son manco veniva calcolato Nonostante fosse fortissimo Immaginatevi voi Perché c'erano quei giocatori Che continuavano ad overperformare Ad upgradeare E quello era il problema di base Che poi però si è risolto In un nulla di fatto Si parlava di Delle Alli Al Real Madrid Si parlava di Delle Alli Al Manchester City Al Paris Saint Germain Quando si veniva a parlare Di Delle Alli in Italia Si parlava di un calciatore Straordinario E invece è finito al Besiktas Ma non solo In questo momento Il Besiktas manco lo vuole più Infatti pare che Il Besiktas abbia detto Che dopo 5 mesi Dopo i 5 mesi Quindi con ancora anticipo Anzi in realtà 5 mesi di anticipo Perché siamo a gennaio Quindi dopo 7 mesi Ma il campionato Non si è mai giocato L'Everton vorrebbe Il Besiktas vorrebbe Rimandarlo a casa Quindi all'Everton Qual è il discorso Il discorso è che L'Everton gli ha detto Guardate io se volete Me lo riprendo pure Ma voi avete messo Un prestito oneroso Di un milione Se voi tenete 5 mesi 6 mesi 4 mesi 3 mesi Io sempre un milione Mi prendo Perché sulla clausola Non c'è scritto niente E quindi O che voi me lo rimandiate Il 13 di gennaio O che voi me lo rimandiate Il 31 di giugno Il 30 di giugno A me personalmente Non me ne frega nulla Cioè io sempre il milione Pattuito A inizio anno Mi percepisco E quindi adesso Il Besiktas starebbe pensando Se tenerlo lì E dai a due frustate Quando gli aggira male Oppure se rimandarlo a casa Quindi magari evitare Di avercelo sul gruppone Per altri 5 mesi Però comunque Perdere il milione Di euro Che è costato Il suo prestito oneroso Io regà Mi sorprendo sempre Di come Dalliali Abbia fatto sta fine Per me è veramente Inconcepibile Incomprensibile Impensabile Non riesco a capirlo Certo è che questo È sotto gli occhi di tutti E questo Lo valutiamo Quindi veramente è un peccato Ma di questo si parla Posizione numero 7 Per una chiusura vicina Infatti De Pai Diventerà un nuovo giocatore Dell'Atletico Madrid L'avete visto Il bel debutto di Joe Felix Borraccio al Chelsea È entrato Ha preso un cartellino rosso Dopo pochi minuti Un rosso diretto Per un fallaccio Quindi è uscito E poi il Chelsea Ha perso la partita Bell'inizio Nel frattempo L'Atletico Madrid Dopo aver perso Joe Felix Pensa a come sostituirlo E pare Secondo marca Che abbia chiuso Per De Pai La trattativa è proprio All'ultimo Procede spedita E già oggi Domani Insomma a giorni Potrebbe chiudersi E De Pai potrebbe diventare Un nuovo giocatore Dell'Atletico Madrid Ora Vi posso dire Non so che dire Nel senso Al momento De Pai Arriva per chiudere la stagione Cioè L'Atletico aveva bisogno Di un calciatore lì davanti Un altro che sostituisse Joe Felix Numericamente E quindi arriva Però l'Atletico Quest'anno ha fatto Una figura pessima In Champions League Simeone Ha annunciato ufficialmente È stato annunciato ufficialmente Simeone Non continuerà Il suo percorso Con l'Atletico Quindi a finale andrà via Tutti gli acquisti Che vengono fatti In questo frangente Per me sono abbastanza Di difficile comprensione Perché io non so Se l'anno prossimo Arriverà un tecnico simile A Simeone O se semplicemente Arriverà Un tecnico qualunque Un tecnico diverso Un tecnico Più offensivo Io queste cose Non le posso sapere Quindi ad oggi Che cosa vi dico È giusto che L'Atletico Stia prendendo De Pai Non lo so È sbagliato Non lo so Volevo vedere De Pai In Italia Ma la Juventus Non è riuscita a prenderla E alla fine Ha ripicato su Milik Tra l'altro Io avevo mal giudicato L'acquisto Invece Gran colpo Milik Devo dire Sta facendo veramente bene Con la maglia della Juventus Infortuni permettendo Che Per fortuna sua Non sono ancora Arrivati E tutti avevamo Un po' pari di questa cosa Però De Pai Lo volevo vedere in Italia E invece Non l'abbiamo visto Alla posizione numero 6 Una notizia Che arriva direttamente Dall'Arabia Saudita Pare infatti Che E ve ne avevo già parlato ampiamente In altri video Secondo la stampa britannica Il padre di Messi Si troverebbe In Ariad Quindi in Arabia Saudita Per parlare con L'Al-I-Lal La squadra rivali Dell'Al-Nasr Che ha ingaggiato Cristiano Ronaldo Ma addirittura Appare che Messi potrebbe Percepire 300 milioni Di euro L'anno Cioè Non solo diventerebbe Il più pagato Di sempre Della storia E del mondo In questo momento Ma diventerebbe anche Pagato tre volte Anche quasi quattro E che prende 70 milioni L'anno Quello che percepisce Cristiano Ronaldo Cioè praticamente Messi prenderebbe In un anno Quello che Ronaldo Prenderà in tutto Il suo percorso All'Al-Nasr Cioè veramente Qualcosa di clamoroso Fatto sta che adesso Sono dicerie Poi sicuramente Si parlerà di 300 milioni Nel totale Suppongo io Però il fatto Di poter rivedere Messi contro Ronaldo Sì in Arabia Saudita Ma Messi contro Ronaldo A mio avviso È sempre una situazione Che mi intriga È sempre una situazione Che mi porta a dire Figo Lo voglio vedere E qui l'Arabia Saudita Si sta muovendo bene Tra l'altro C'è una tesi Che avvalora il fatto Che secondo me Messi ci andrà In Arabia Saudita E ve la dico chiaramente La tesi è questa qua Cristiano Ronaldo Pareva dovesse Diventare il nuovo Testimonial Dell'Arabia Saudita Per la rincorsa Al Mondiale 2030 Ok Perché l'Arabia Saudita Vuole ospitare Con Egitto e Grecia Nel Mondiale 2030 E quindi Ronaldo Doveva diventare Il testimonial All'inizio Quando è uscita fuori Questa notizia Che pareva addirittura Aver trovato Conferme interne Nessuno ha smentito Quando è iniziato Ad uscire Dopo qualche giorno Quando è iniziato Ad esserci la possibilità Che Messi anche Andasse in Arabia Saudita Si è fatto presente Si è fatto vivo Il presidente Il proprietario dell'Al Nasr Lo Sheikh Ha detto Si dell'Al Nasr Ha detto Guardate che Ronaldo Non diventerà Suamente testimonial Nel 2030 Non c'è questa clausola Perché A mio avviso Ci penso io Certo facendo un ragionamento Un collegamento Perché Ronaldo Perché Messi Prima del Mondiale Ha firmato un contratto In cui Confermava E affermava Di rappresentare In qualche modo L'Arabia Saudita E quindi c'era Questa cosa divertente In cui la gentile Aveva perso L'Arabia Saudita E Messi li rappresentava Ok Ecco Il fatto che Messi Vada inaggiore In Arabia Saudita Ancora più grosso Cioè Oggi Messi Ha vinto l'ultimo mondiale E quindi arriverebbe Da campione in carica Al prossimo Al mondiale 2030 Però alle candidature Non arriverà Al mondiale 2030 Perché c'è ancora Quello 2026 Però alle candidature Arriverà da campione in carica Avere Messi come testi mondiale È ancora meglio E quindi secondo me Hanno fatto un passo Hanno ritrattato Proprio per quello Questa è una mia ipotesi E quindi per me È fattibile il fatto Che Messi Potremmo vederlo In Arabia Saudita Alla posizione numero 5 Ha parlato Nagelsmann Allenatori del Bayern Monaco E ha parlato del fatto Che Neuer si è fatto male Si è infortunato Sugli iscii topi mondiali E ha finito la stagione C'è veramente qualcosa Di clamoroso Lui ha detto A nessun club Mi piace regalare Il proprio portiere Siamo obbligati A ingaggiarne uno nuovo La situazione di mercato È complessa Perché anche altri club Cercano di terminare Posizioni C'era da aspettarselo Per come stanno andando Le cose Quindi chiaramente Ha detto Cercheremo un altro portiere Siamo obbligati Si era parlato di Sommer Non so se vi ricordate Ne abbiamo parlato anche Nel SIG Parade Poi pare però Che La sua squadra D'appartenenza Faccia un pochino Di pressione E che non voglia perderlo Il Borussia Mönchengladbach Dice io me lo tengo Almeno fino a stagione Sommer fine stagione Vuole andare via Ma al Bayern serve oggi Cioè il Bayern Non aspetterà A fine stagione Che possa arrivare Sommer Perché ha bisogno Di prendere un portiere E deve prenderlo Ora Adesso Senza nessun tipo di problema Lo deve prendere ora Perché da qui a fine anno Non può giocare con il secondo Non si sente sicuro Il Bayern Monaco Il Bayern Non ha solamente Il campionato Probabilmente Se avessero fatto male Come l'Atletico Madrid Se fossero ucciti A gironi di Champions Avrebbero detto Sentite facciamo una cosa Chi se ne frega Del portiere Giochiamoci il campionato Come riusciamo Giochiamoci il campionato Per quello che riusciamo a fare E poi a fine anno Prenderemo Sommer O comunque prenderemo Un secondo portiere Per stare tranquilli Quando Neuer Si farà male Se mai si farà male Perché iniziate a averci una certa Però arrivati a questo punto In cui tu devi giocare ancora La Coppa tedesca La Champions League Nel pieno della Champions League Ecco il Bayern Ha necessariamente bisogno Di prendere un portiere Che vada a sostituire Manuel Neuer Quindi vedremo Ovviamente bisognerà capire Anche quale portiere prenderà Perché secondo me Andrà su un portiere Tipo magari ecco Emiliano Martinez Tipo Pop Cioè portieri forti Perché sono forti Che però giocheranno In squadre medie Dei propri campionati Perché ad esempio Se busi a Maignan Maignan che comunque Quando poi torna Neuer Si fa la gavetta con Neuer Non ti ci vede A parte non ci vede comunque Però non ti ci vede In ogni caso Anche se gli dai 100 milioni l'anno Magari 100 sì Però avete capito Quello che intendo dire Posizione numero 4 Per la Fiorentina Che sta pensando A un nuovo attaccante E si parla ovviamente Di una punta Che vada a sostituire Cabral Se è fatto male Cabral C'è bisogno di una punta Per forza Per forza E il nuovo nome È quello di Tonni Sanabria Del Torino Sanabria che io conosco Molto bene Sanabria ce l'abbiamo avuto A Roma Non è esploso Poi l'abbiamo prestato in Spagna L'abbiamo poi venduto in Spagna E lì si è ricostruito E è tornato in Italia Mediante il Torino Si era parlato di Lazio Per Sanabria Si è parlato di Roma Delle volte per Sanabria Anche se poi insomma Il suo rapporto con la Roma Non è stato poi così Fiorentina Questo è un acquisto Secondo me da Monza Cioè oggettivamente Me lo aspetto dal Monza Ma aspetto che il Monza Vada a prendere Sanabria Perché lo vede In quell'ottica là Piuttosto Come vice di Jovic Può anche andare bene Però se la Fiorentina Lo prende Perché pensa Che possa fargli Top goal Non lo so Cioè Sanabria ancora Non è esploso del tutto Anzi vi dirò di più Io credo che il Torino Dovrebbe monitorarsi E cercare un'altra punta Perché al momento Sanabria Non dà quelle certezze Che magari Ti darebbe La punta Che tu vorresti Prendere Vorresti avere E quindi insomma Sanabria ok Però deve essere chiaro Che da qui a fine anno Probabilmente farà 4 o 5 gol Poi non lo so Magari ne fa 17 Io verrò completamente smentito Saliamo sul podio Con la posizione numero 3 Perché Perché Dopo essere stato Isonbrato dalla Spagna Perché la Spagna Uscì dai rigori Per me è una cosa incomprensibile Visto che il lavoro Faccio da Luis Enrique È un lavoro di ricostruzione totale E se un giorno La Spagna vincerà il mondiale O l'europeo È merito di Luis Enrique Adesso sembra che Luis Enrique Possa diventare Proprio sia il primo Il più favorito Per diventare Il CT del Brasile Ne parla Sport E dice che La Federcalcio Verde Oro Avrebbe già contattato Luis Enrique Ed è apprezzato Soprattutto per il fatto Di lanciare i giovani Se la Spagna È una nazionale Che lancia tanti 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 Giovani In questo periodo storico Per una ricostruzione Lo stesso sta facendo Deve fare il Brasile Vi faccio presente Il fatto che il Brasile Abbia Vinicius Abbia Rodrigo Abbia una marea di giovani E tanti altri Ne sforna ogni anno Il Brasile È una selezione Sfornatrice Di talenti E quindi sarebbe L'ideale Provare a prendere Luis Enrique È in Pola Io sarei molto curioso Il Brasile Secondo me Avrebbe L'ho sempre detto Il Brasile Per tante teste che parlano Per tante teste che cantano Cioè guardate anche Il fatto che hanno Neymar Ma Neymar Oltre che Neymar Hanno Ricciarli Hanno Caprile Gesù Hanno Martinelli Hanno Casemiro Hanno un sacco di gente Diago Silva Alisson Ederson Cioè il Brasile Fai fatica a metterli Tutti in riga No? Ma tanta fatica E cos'è un allenatore Che sia un signor allenatore Luis Enrique Per me È il profilo adatto E quindi io approverei In pieno Questa scelta Alla posizione numero 2 Occhio Perché vi ricordate Che qualche giorno fa Avevo detto nel SIG Parade Che Milinkovic Savic Probabilmente Non avrebbe rinnovato Il contratto E chi aveva deciso Appunto di andare via Lui però aveva sempre detto Non voglio andare in Italia Se voglio andare in Italia È meglio che rimango alla Lazio Perché Tutte le altre inate squadre Non me ne frega nulla Dice io voglio andare a Real Madrid Il Real Madrid Però questo grande passo Non l'ha mai fatto E anzi Sta provando a prendere Bellingham Nonostante a centrocampo Abbia già Casemiro Cross Modric Camavinga Ciuameni Insomma Real Madrid ragazzi A centrocampo È la squadra più forte del mondo E sta provando anche a prendere Jude Bellingham Quindi che ve lo dico a fare Vedi che Milinkovic Non andrà mai a Real Madrid Allora la Lazio Visto che ha parlato con il calciatore E sembra Che quindi nel 2024 Non quest'anno L'anno prossimo Tra un anno e mezzo Il calciatore andrà via Sta iniziando a sentire Ad ascoltare delle offerte Inoltre Va detto anche Va detto anche Che la Lazio Insomma Era molto Portata Ad alzare gli l'ingaggio Però Si parla addirittura Di una squadra Che adesso lo vorrebbe fortemente Ovvero il Newcastle Sarebbe pronto Il Newcastle Ad offrire 7-10 milioni Facciamo 10 milioni di euro l'anno Più altri 12 di bonus Alla firma Quindi facciamo conto Un quinquennale A Milinkovic e Savic Dal Newcastle Quinquennale dove lui percepisce 50 milioni In 5 anni Più 12 milioni Alla firma Un totale di 62 milioni In 5 anni C'è una cifra enorme E aggiungiamoci anche Che sarebbe vicino Già a gennaio Quindi non tra 3 mesi Non tra 2 mesi Non tra 6 mesi Non a fine stagione Già a gennaio Già ora Di punto in bianco Un'offerta di 60 milioni di euro O giù di lì Che è la cifra Più o meno quella Che l'Otito aveva chiesto Per il calciatore Ecco Se Milinkovic e Savic Dovesse andare Al Newcastle Per me Per il Newcastle Che sta lottando Per andare in Champions Sarebbe un colpo Davvero eccezionale E alla posizione Numero 1 A rieccoci L'Arsenal Prima in classifica Secondo la Repubblica La Repubblica C'è tempo A quella cosa lì L'Arsenal Si sarebbe rigettato A capovitto Su Blauvic Su Dusan Blauvic La Juventus L'ha pagato 70 milioni di euro In questo momento La Juve Potrebbe Se volesse Farlo partire Solo per 110 milioni Di euro Quindi quella è la cifra In Premier sono Diciamo cifre che Sono all'ordine del giorno Greenwich è stato pagato di più Sarebbe stato pagato di più Anche Enzo Fernandez Per Sette partite Perfette Quindi nel senso Non si parla di cifre proibitive Per squadre di Premier League Però attenzione Perché su Blauvic Ci sarebbe una sorta di Staffetta Una sorta di Asta Al Al rialzo Perché Lo vuole l'Arsenal Ma lo vuole anche il Bayern Monaco Sebbene il Bayern Preferirebbe provare a prendere Harry Kane davanti Per sostituire Lewandowski Visto che è andato al basso Ancora non l'hanno sostituito Hanno preso Sadio Mané Ma Tecnicamente a livello di ruolo Numericamente non è stato sostituito Vorrebbe ora Harry Kane Ora bisogna vedere se Il Tottenham ti dà Harry Kane Se Conte ti dà Harry Kane Se Harry Kane vuole andare al Bayern Monaco Per me questo sì Però nel caso L'alternativa Del Bayern Di attaccante giovane Di prospettiva Già forte Pronto Che segnerebbe una fracca di gol Sarebbe Doisan Blauic Vedremo ovviamente Quello che succederà Rimanendo sempre attenti E monitorando Sul SIG Parade Eh sì ragazzi Eh sì Eh sì Eh sì È SIG Parade È SIG Parade Fatemi sapere la vostra Con un commento qua sotto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Io vi ringrazio Vi lascio tantissimi mi piace Boccia l'allene come sempre Ci vediamo al prossimo video SIG Paradeo SIG Paradeo SIG Paradeo